Le previsioni del bilancio regionale e il metodo con cui il documento è stato redatto non piacciono ai consiglieri di centrosinistra che questa mattina all'Aquila hanno chiarito ai giornalisti la loro posizione. Giovanni Legnini, Silvio Paolucci, Dino Pepe, Antonio Blasioli e Sandro Mariani hanno approfittato di una pausa dei lavori di commissione per segnalare la presunta divisione politica interna alla maggioranza e presentare alla stampa il contenuto di diversi emendamenti alla legge di bilancio. Proposta in materia di artigianato, cultura, agricoltura, danni da fauna selvatica, dissesto, sicurezza e protezione civile. Sentiamo Silvio Paolucci. Noi stiamo chiedendo che venga presto modificato il bilancio della regione perché è scritto addirittura a mano rispetto a delle iniziative che non si sono verificate perché vogliono finanziare dei progetti di legge e questo è illegittimo. Con la legge di finanza del bilancio della regione si possono finanziare esclusivamente delle leggi già esistenti e non dei progetti di legge. Giovanni Legnini parla di scelte mancate. Questa giunta poteva godere degli effetti del risanamento finanziario, dell'equilibrio finanziario di maggiori risorse che provenivano dagli anni passati grazie al lavoro dell'assessore a bilancio Silvio Paolucci. Eppure non ha saputo fare delle scelte. Il consigliere Blasioli segnale i settori sui quali a suo dire non si è investito a sufficienza. Zero per quanto riguarda l'ambiente della nostra regione, zero per quanto riguarda gli impianti di depurazione che per molti comuni non ancora ci sono, zero per quanto riguarda i piccoli comuni che invece vivono situazioni di dissesto idrogeologico e che avrebbero bisogno invece di investimenti anche per prevenire situazioni future.